buongiorno ragazzi buongiorno ragazze benvenuti nella mia cucina oggi andremo a preparare una ciambella al limone gli ingredienti sono 250 grammi di farina 00 120 grammi di zucchero 200 ml di latte 100 ml di olio di seme il succo di due limoni e la buccia grattugiata di un limone quattro uova una bustina di lievito e una bustina di vanillina la prima cosa da fare è andare a montare le uova abbiamo montato le uova ora aggiungiamo lo zucchero e continuiamo a sbattere ora aggiungiamo il latte olio limone e buccia di limone mescoliamo bene aggiungiamo due cucchiai di farina magica oppure amido di maestro mescoliamo bene ora aggiungiamo la farina 00 poco alla volta e andremo a sbattere il nostro imbasto è pronto ora aggiungiamo il lievito e la vanillina scusate ho fatto un piccolo errore avevo messo il lievito estandaneo per quello che si cresce l'ho estratto e andremo ad aggiungere il lievito per dolci e la vanillina non avevo letto bene la busta purtroppo succede ora andremo a mescolare bene il lievito ora andremo a avversare ora andremo a invornare a 180 gradi per 30 minuti minuti. Ecco la nostra ciambella è pronta, ora la andremo a tagliare. Ecco la nostra ciambella è pronta, spero che questo video vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto lasciatemi tanti pollici in su, iscrivetevi al mio canale e noi ci risentiremo al prossimo video. Ciao a tutti, a presto! Grazie.